1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Bravissimi, posso fare gol adesso? No Vieni 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 Bravo Vieni 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 Perché? Alla nostra sinistra Quanti gol siete? 6 6 Sì Sì Come un po' Raga Raga perché sto non muo? E primo non comunque È un po' Sì Usiamo qui La porto verso la parte oh Aiuto il difensore T'ai fatto in precisione Da Guarda la faccio muovo La muovo Tiavolo per il difensore è il più difficile per sempre O Deve fare di meglio Capito? Chiaro? Dai 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 bene 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 via valla a fare gol bravissimi, molto bene molto bene schelgo, schelgo nuovo che non c'è di partire se non è passato nella parte due, tre vieni 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 cinque via a fare gol io guante facciamo il giro altri 20 piegamenti sono 20 piegamenti ragazzi bene 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 questa fella nuova forriamo la nostra siamo? questa è la rivincita ma hai detto che fosse la rivincita dopo la facciamo la rivincita ora non 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 ma